Un progetto importante per una società che vuole riprendere le sue attività perché è un progetto che avvicina un po' i lavoratori, le lavoratrici anche del patto territoriale, ad una condizione di lavoro ottimale per gestire il rapporto lavoro-famiglia e quindi un progetto a cui veramente ci tenevamo di partecipare e poi per fortuna, per bravura anche dei lavoratori del patto, siamo riusciti ad ottenere questo finanziamento di 85 mila euro e il percorso è quello di crescita di una società che molto spesso è un po' considerata meno di quello che vale. Un lavoro a misura d'uomo e di famiglia perché in questo periodo sapete benissimo è la ribalta nazionale, la questione della gestione familiare in tutti gli ambiti e quindi riteniamo che sia importante creare quelle condizioni per garantire una migliore qualità di lavoro. Come si è sviluppato? Si è sviluppato con una serie di attività, di formazione, informazione, si sono fatti dei focus, gli operatori, i dirigenti, i dipendenti hanno sviscerato quelle che sono le esigenze di ogni singolo lavoratore e si è arrivati ad un accordo, ad un'organizzazione lavorativa più consona e in più sono stati fatti dei corsi di formazione per migliorare le conoscenze informatiche dei lavoratori e siamo stati in grado di comprare nuovi sistemi informatici per migliorare anche le performance sotto questo punto di vista. Attraverso questa proposta è stato possibile inserire all'interno dell'azienda una nuova filosofia manageriale che è quella più vicina ad attivare delle procedure utili alla conciliazione dei tempi vita-lavoro. Allo stesso tempo, negli ultimi passaggi in cui l'azienda è stata impegnata, è stata quella appunto di, partendo dalla necessità di controllare, di comprendere quali fossero i bisogni di conciliazione attraverso dei focus group è riuscita a raggiungere, seguendo la normativa sul lavoro agile, a redigere un regolamento condiviso tra lavoratori e appunto manager aziendali attraverso cui finalmente si è dotata di uno strumento per poter attivare all'interno dell'azienda il lavoro agile. Questo è stato anche possibile attraverso la dotazione tecnologica che è avvenuta attraverso appunto degli acquisti mirati per poter permettere ai lavoratori di dotarsi di device tecnologici. Questo proprio con la finalità di poter svolgere la propria attività lavorativa nei luoghi che i lavoratori insomma ritengono più opportuni. Allora il futuro diciamo ci permette intanto di avviare a seguito del regolamento la sperimentazione. In effetti il 50% dei dipendenti riuscirà ad avviare diciamo proprio il lavoro agile per i prossimi sei mesi e la regione Puglia attraverso insomma già delle informative che ci sono giunte investirà comunque delle risorse su tale diciamo progettualità che assolutamente è quella della visione family friendly della vita e quindi della conciliazione vita lavoro.